Quando un'opera è terminata, gioia e amarezza si fondono. Gioia perché ognuno di noi può dire ci siamo riusciti, ma le ansie, le ore di fatica e soprattutto il ricordo dei nostri compagni caduti sul lavoro, un po' di noi stessi insomma, non ci appartengono più. Restano là, sull'opera e nel tempo, patrimonio di tutti. Trent'anni ci sono voluti per la diga del Vaillant e fuor più dal giorno che per la prima volta pensai alla realizzazione di questa diga che avrebbe sbarrato la stretta e profonda forra del torrente Vaillant. La diga del Vaillant è ormai giunta al termine, si smontano i cantieri, le acque del bacino salgono a poco a poco. Nuovi progetti attendono i tecnici e gli operai che hanno costruito la più alta diga a volta e doppia curvatura del mondo. Per tanto tempo ancora, per anni, racconteranno e rievocheranno questa singolare avventura del lavoro umano ed avranno il vanto di dire, io cerco. Noovi progetti Noovi progetti Noovi progetti Noovi progetti Noovi progetti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.